La felicità è intangibile, prova a pensare di fotografare niente, l'aria, l'aria. Se Corsa Crociera avesse chiesto di fare una campagna pubblicitaria sulla felicità, forse non saremmo venuti in barca a farlo. Non è che qui non ci sia, solo che devi andare a cercarla. Bisogna rubare un attimo che non puoi organizzare. Sorpresa ed emozione. Emozione e sorpresa. Cioè dobbiamo essere sorpresi noi stessi di quello che vediamo e dobbiamo essere capaci di trovarlo qui. In mezzo al mare dei Caraibi non avrei mai creduto di finire così. Grazie.